Buonasera a tutti, adesso aspettiamo qualche minuto per la diretta. Buonasera, siamo collegati con il canale Facebook Focus 3.0, il mistero della vita, questa sera parleremo dell'orfismo, una parolona che forse qualcuno di voi conoscerà. Intanto ringrazio Anna Tamburini-Torre e Enrico Ballantini per l'invito che sono sempre così affettuosi e disponibili a lasciarmi anche la possibilità di parlare di tutti questi argomenti un po' particolari, che però diciamo mi affascinano e sono sempre state delle grandi curiosità. La sapienza occultata, questa è la rubrica che tengo mensilmente e che tutto ok? Anna, grazie e quindi cominciamo un po' a parlare di questa strana parola. Allora, l'orfismo, la parola stessa, ci porta alla sua origine che è appunto Orfeo. Chi era costui? Orfeo è uno dei personaggi più importanti dell'antica Grecia, anzi non era in realtà greco. La leggenda narra che fosse proveniente dalla traccia ed era un cantore, era un saggio, era un sapiente, era un profeta, era una persona che aveva connessioni con i mondi invisibili. Quindi apparteneva a quella categoria che oggi con un nome più moderno noi potremmo sicuramente chiamare uno sciamano, un grande iniziato, una persona di cui in realtà non si sa bene se sia davvero vissuto. Orfeo è una leggenda, un po' come una leggenda è quella di Buddha, come una leggenda è anche quella di Gesù Cristo, di cui delle connotazioni storiche proprio assolutamente sicure non se ne hanno. Orfeo era un cantore, quindi era un poeta, un poeta fantastico, uno dei migliori cantori che l'umanità abbia mai avuto. Infatti era figurato sempre con la sua lira, con il suo strumento musicale con cui lui andava e incantava tutto ciò che era vivente, le piante, i fiori, gli animali e ovviamente le persone. I canti di Orfeo erano talmente famosi che la voce di questo cantore si sparsa in tutta l'antica Grecia fino al Peloponneso e questa lira era talmente bella, il suono di questa lira era talmente eccezionale che ancora oggi nelle costellazioni esiste la costellazione della lira. Bene, quella costellazione è la lira di Orfeo. Questo sta a chiarire quanto questo cantore fosse importante. Lo potremmo effettivamente paragonare o a Buddha o a Cristo, cioè davvero un personaggio che ha cambiato il mondo, un personaggio leggendario. Sapete la differenza tra leggenda e mito? La leggenda è qualcosa che probabilmente ha anche un granello di verità storica, mentre invece il mito è una narrazione completamente inventata, completamente creata dalla mente di alcuni uomini. Quindi su Orfeo possiamo definirla una leggenda, cioè qualcosa di storico probabilmente è esistito. Quindi vediamo un pochino se avete anche delle domande. Ancora no, ma spero. Ciao Raul, ciao benvenuto. Allora, cosa faceva Orfeo? Orfeo faceva innamorare tutti. Tutti erano incantati da questa voce melodiosa e da questa musica così celestiale. Ora la musica era uno degli strumenti principali con cui le scuole iniziatiche usavano. Noi nelle puntate precedenti abbiamo parlato sia dei misteri eleusini, che sono i più antichi in assoluto e di quali si sa meno proprio perché così antichi. Poi nella puntata successiva abbiamo parlato delle scuole dionisiache, che tanto importanza ebbero fino diciamo all'età imperiale romana, quindi sicuramente moltissimi secoli. E poi da ultimo, the last but not the least, direbbero gli inglesi, l'Orfeo, cioè l'orfismo. Ora l'orfismo è un po', il tridunion è un po' la crasi, l'unione di alcuni concetti che erano espressi dai misteri eleusini e alcuni altri espressi dai misteri dionisiaci. Anche Dioniso, se ricordate bene, usava la musica nei chiasi, aveva il tirso, questa specie di suono piuttosto forte, martellante, nelle manifestazioni, la musica era quasi un po' come quella di oggi, cioè estremamente forte, estremamente martellante, estremamente anche che aiutava le persone ad andare in deliquio, ad andare in estasi, a perdere. E' un po' anche rimasta, come vi avevo detto l'altra volta, nella nostra Italia meridionale, dove c'è per esempio la pizzica o la taranta. Sono dei balli dionisiaci, dei balli talmente coinvolgenti, talmente, diciamo, che coinvolgono tutta la persona, che alla fine si balla fino a svenire, fino ad avere la musica di Orfeo. Esattamente il contrario. Quella di cui si parlava, perché noi sappiamo, è stata la musica di Orfeo, era invece la musica che noi oggi definiremmo celestiale, un canto gregoriano, una musica di armonia, quella stessa musica che poi ripresero i pitagorici. La scuola pitagorica ha molto, è molto affine a quella orfica, anche se con alcune differenze, ovviamente, perché Pitagora privilegiava la matematica, la scienza, la geometria, mentre invece Orfeo era più uno sciamano, quindi, diciamo, i sacerdoti che seguivano e che ufficiavano questi riti erano dei veri e propri sciamani. La differenza tra i sacerdoti dionisiaci, diciamo, le persone consacrate a Dioniso e le persone consacrate a Orfeo è questa. La differenza tra i sacerdoti dionisiaci, le persone consacrate a Dioniso venivano possedute dal Dio, ovvero, entravano in una possessione, quindi avevano, avete presente l'esorcista, avevano delle specie di effetti estremamente forti, violenti, saltavano, ballavano, alla fine andavano in una specie di trance molto forte, molto agitata, esattamente il contrario delle persone dedicate ai riti orfici, che invece andavano in una specie di trance. Andavano, l'anima della persona si elevava verso il cielo, verso le altre dimensioni, lasciando il corpo praticamente inerte. Quindi, mentre, diciamo, il Numen, cioè il Dio, il Theos, entrava dentro il dionisiaco e lo faceva ballare fino allo sfinimento, la cosa contraria, invece, nei sacerdoti orfici andavano in una specie di deliquio mistico e si congiungevano a loro anima, si elevava a tal punto da arrivare al cielo. Quindi questa era la differenza, diciamo, tra le due ritualità. Su Orfeo penso che il personaggio è molto famoso, quindi probabilmente molti di voi conoscono la storia di Orfeo. Comunque è una storia talmente bella che va raccontata, anche perché questa storia è talmente piaciuta attraverso i secoli da essere sempre ricordata. Perché? Perché la storia di Orfeo unisce Eros e Thanatos. Orfeo era, appunto, come vi ho detto, un bellissimo uomo molto saggio che si innamora perdutamente di una ninfa che era Euridice. Orfeo e Euridice appartengono alla mitologia più classica, quindi sapete sicuramente che purtroppo la giovane e bellissima Euridice proprio il giorno delle nozze dopo essere convolata con gioia a giuste nozze con Orfeo passeggiando su di un prato verde viene morsa da una vipera, da un serpente velenoso. Nel giro di pochi attimi la fanciulla cade a terra e muore. Quindi Orfeo vive praticamente in contemporanea la più alta estasi d'amore, la più alta estasi di Eros, quindi l'anabasi come avevamo imparato nelle puntate precedenti e poi vive la catabasi, cioè vive il dramma, l'angoscia di questa morte improvvisa del suo amore. Si dice muore e Orfeo non può più vivere, cioè queste persone buonasera Rossanna, buonasera Lisa, Edoardo, ciao, Alessandra, ciao. Orfeo, essendo un poeta, ricordate che la parola poeta e poesia quindi vengono dal greco poieo che vuol dire creare, sono i creatori, i creatori del mondo, i creatori delle narrazioni. Non crediate che la poesia sia solo una cosa stupida e romantica, solo per gli animi innamorati. La poesia è creazione, anzi, quando all'inizio, anche la Bibbia dice, all'inizio era il logos, era il poieo, cioè era la creazione, era la parola, il verbo, quindi la poesia di nuovo, che è formata di parole, che creava il mondo. Sarà che io sono un po' di parte, perché molti di voi sapranno che io scrivo poesie, anzi, direi che la poesia stessa mi ha salvato la vita. In un momento molto difficile della mia vita, se io non avessi trovato la scrittura, soprattutto la scrittura di poesie, io penso che non sarei stata qui a raccontarvi queste cose. Comunque è andato tutto bene, quindi possiamo parlare di poesia, di creazione. Quindi cosa fa Orfeo disperato? Prende la sua lira, cioè chiama la sua arte, che era la sua forza, era la sua possibilità di riuscire nella folle impresa che Orfeo si prefigge. Qual era l'impresa? Andare agli inferi. Andare nel tartaro, nel buio, nel buio della terra a chiedere agli dèi degli inferi, ricordo che gli dèi dell'inferi erano Ade e Persefone, chiedere a Persefone di poter riportare in vita Euridice. Questo viaggio attraverso la morte. Ora, le forme orfiche, tutta la conoscenza orfica è dedicata alla morte. Molte altre religioni successive si sono molto fondate sulla morte, compresa quella, diciamo, più in auge adesso che quella cristiana. Molti personaggi dell'antichità vanno nell'Ade anche con la carne addosso, ricordo Ulisse, Enea, Dante e anche Orfeo. Orfeo va agli inferi coraggiosamente perché chi ama è coraggioso, quindi lui coraggiosamente, mettendo a rischio la propria vita, va negli inferi e incontra, e questo è il racconto che poi Dante ha ripreso, racconta di Cerbero, racconta del traghettatore, di Caronte, Carondimogno dagli occhi di Brage, dirà Dante. La ricostruzione che fa Dante nella Divina Commedia è una ricostruzione orfica, è una ricostruzione, diciamo, che soprattutto i sacerdoti avevano descritto, diciamo, di cui avevano parlato. Diciamo se... Grazie, ma siete carini? Come ci si incanta ad ascoltare. È vero? È bello l'incantamento. Come diceva Dante, Guido, io vorrei che tu e l'Apo e Dio fossimo presi per incantamento. Beh, vabbè, Dante è Dante, eh? Poi io vengo... Io abito a Ravenna, per cui Dante è il mio vicino di casa. È comunque l'incantamento del canto, della poesia. Non a caso si chiama incantamento, perché è un canto, è un canto che ti avvolge, che ti affascina. quindi Orfea negli inferi e cosa fa? Canta, suona, fa in modo che tutte le anime, anche se morte, rimangano estasiate al suo canto. Il suo canto riusciva a placare le fiere selvagge, leoni, pantere, tutti erano come dire storditi dalla musica di Orfeo e lui, forte di questa sua capacità, va a incantare anche gli dèi degli inferi. Quando Proserpina, scusate, Persephone, che poi è la stessa, è la stessa personaggio, cioè il nome latino è Proserpina, il nome greco è Persephone. Quando Persephone sente la storia triste di Euridice, si commuove, sperato del suo amante, del suo marito, di concedere una grazia incredibile, perché non è mai stato dato a nessuna anima di uscire dagli inferi e tornare da un inferi. A meno che, e qui vediamo di nuovo Gesù, o altre risurrezioni di cui sappiamo, ma è un fatto estremamente raro. Persephone dà un, come dire, un obbligo. Dice a Orfeo che avrebbe potuto portare l'anima di Euridice fuori dall'inferno, dagli inferi, scusate, non era ancora inferno, sono gli inferi diciamo della religione classica. L'inferno verrà dopo con la chiesa cattolica. Allora, Orfeo potrà portare fuori Euridice a patto che per tutto il percorso non si mai indietro a guardarla. Questo è il divino patto è il divino patto anche tu sei tutti ravennati abbiamo il vicino di casa con Dante. Il divino patto per cui lui non poteva assolutamente girarsi a guardarla. Ovviamente la povera Euridice non lo sapeva cosicché quando vede il suo amato si emoziona e capisce che può seguirlo cosicché trepidante lo segue e Orfeo è molto fermo nel suo intento e riesce a portare la sua amata sposa fino alla diciamo all'uscita all'uscita del tartaro Orfeo ha già messo il piede fuori fuori dalla dalla caverna e ingenuamente con la voglia voi pensate a un innamorato che voglia ha di vedere la propria amata quindi con una voglia immensa e credendo di essere già fuori dal pericolo perché il suo piede era già il suo corpo era già fuori si volta indietro e guarda Euridice ma ahimè Euridice era ancora dentro era ancora nel tartaro era ancora nel buio questo momento mentre Orfeo allunga la mano per prendere la mano di Euridice di portarla fuori la mano di Euridice allombra l'immagine della sua amata scompare e lui si ritrova di nuovo solo questa tragedia segnerà Orfeo per sempre la finale di questa storia abbiamo varie finali molti scrittori hanno parlato della fine di Orfeo e sicuramente sicuro che lui pianse pianse per mesi se non per anni che dice sette mesi che dice sette anni e andò Ramingo in tutto il mondo conosciuto a raccontare la sua triste storia cantando con la sua lira la morte ora i riti orfici contrariamente agli altri due di cui abbiamo parlato parlano della morte tutto ciò che anche la nostra cultura indica e ipotizza perché nulla di certo abbiamo dell'altro mondo ma tutto ciò che viene ipotizzato dalla nostra mente occidentale deriva dai misteri orfici i misteri orfici narrano che nell'oltretomba c'erano questi fiumi c'era un traghettatore come vi ho detto prima Dante riprende esattamente il mito orfico a questo traghettatore bisognava pagare un obolo un obolo fisico cioè dei soldi non so se avete presente questo appartiene anche alla cultura egiziana in cui spesso nelle mummie venivano posti due monete sugli occhi proprio per pagare il traghettatore il traghettatore delle anime secondo la teoria orfica c'erano due fonti a cui le anime che marcavano la grande soglia cioè che andavano nel regno dei morti erano obbligati a bere le due fonti le due fontane una era il lete famoso lete che poi anche Dante parla e lo rende come un fiume un fiume a cui tutte le anime erano costrette a bere perché era il fiume della dimenticanza cioè dimenticavano la vita precedente e tutte le anime in qualche modo erano a abbeverarsi all'ete solo pochissime anime invece potevano accedere all'altra fonte e l'altra fonte era chiamata memnosine mnemonico la parola mnemonico italiana deriva proprio da memnosine memnosine era una titana era stata amata da zeus che era rimasto con lei per nove giorni e per nove notti e lei aveva dato origine alle nove muse e memnosine era la dea della ricordanza della rimembranza la dea della memoria perché è così importante memnosine sia nei riti orfici chi aveva la possibilità di abbeverarsi alla fonte di memnosine non era più costretto alla famosa metempsicosi questa è un'altra parolona difficile però la metempsicosi è semplicemente la rincarnazione il giro il lungo la lunga ruota delle incarnazioni il samsara direbbero in India i concetti delle rincarnazioni sono trasversali in tutto il mondo il concetto che dovrai ripetere la vita sulla terra se non hai capito determinate cose e ci portiamo delle memorie delle vite precedenti è un pensiero molto antico è un pensiero orfico in realtà perché è un pensiero orfico perché fu proprio questa scuola di pensiero a dividere completamente il corpo dall'anima a creare il concetto di due cose separate una cosa era la ovvero l'anima che era volatile che era qualcosa di magico qualcosa che poteva trasvolare attraverso i mondi e poteva conoscere l'invisibile e invece che vuol dire corpo che era la parte materiale e che moriva e moriva definitivamente oggi tutti conoscono per esempio la parola psicosomatico che in realtà contiene le due entità psico cioè psiche e soma il corpo quindi diciamo il corpo e l'anima formano l'individuo noi ancora oggi vediamo le cose duali esattamente come le vedevano i sacerdoti orfici prima non era così la psiche non veniva considerata altro che un soffio vitale ma neanche Omero contempla l'idea di un'anima immortale per Omero i suoi eroi sono mortali Achille muore Omero dice però che gli eroi morti in guerra gli eroi morti a Troia gli eroi morti durante la guerra delle guerre avevano la possibilità di andare in un'isola dei beati diciamo così in un'isola in cui non avrebbero dovuto sopportare le pene dell'inferno ovvero il lungo processo delle anime nel tartaro che erano costrette al buio la parola tartaro questo vuol dire quindi all'oscurità non vedere più la luce del sole solo gli eroi anticamente veniva concesso questo grande regalo che era appunto continuare anche da morti a vedere la luce del sole pur lontani dalla terra cioè in una isola che appunto era posta ai confini del mondo quindi potete pensare a qualsiasi cosa no? ai confini del mondo e quindi questi eroi avevano questa possibilità secondo i riti orfici chi beveva nella alla fontana di Memnusine aveva invece la possibilità di andare nei campi Elisi questa è un'altra le Champs-Elysées a Parigi a Parigi abbiamo non a caso vedete come ancora tutte le parole che noi usiamo i concetti appartengono molto alla scuola orfica quella che è rimasta di più che ha avuto più espansione ed è stata anche molto riciclata è stata molto usata dalle successive religioni e soprattutto quella cristiana anche il cristianesimo vede una dualità tra corpo e spirito tra corpo e anima quindi questa dualità ce la siamo portata dietro ora il cristianesimo diciamo è affiorito durante un'epoca storica in cui la divisione era netta divite timpera deriva dall'impero romano per cui il pontifex maximus era anche un attributo di Cesare era un attributo dei Cesari degli imperatori quindi il nostro pontifice in qualche modo è comunque un successore degli imperatori è un pontifex maximus quindi vedete che anche in queste parole si vede come la continuità tra l'impero e la chiesa sia stata molto forte molto evidente e così anche i concetti della divisione tra un inferno e un paradiso prima nell'antica Grecia non c'era questa differenza non esisteva il paradiso e non esisteva l'inferno esistevano gli inferi ovvero quelle zone che erano messe sotto terra al buio si pensava per esempio chi conosce Napoli Campi Flegrei per esempio quella era una delle zone in cui si pensava fosse l'entrata dell'inferno quindi quando c'erano queste strane così questi strani miasmi perché non so se voi qualcuno di voi sia mai stato ai Campi Flegrei e abbia visto le bolle di Zolfo che emanano del fetore è proprio una cosa veramente disgustosa poi ci sono questi anfratti queste grotte che stanno dentro la terra estremamente paurose è chiaro che per gli antichi quella era una delle bocche di accesso agli inferi ovvero al tartaro gli inferi erano gli inferi non c'era giudizio divino il giudizio divino parte dagli egiziani dalla prima dalla prima civiltà patriarcale lì c'è il giudizio l'anima viene posta sulla bilancia da una parte l'anima del defunto e dall'altra era la piuma di tot cioè la piuma la bilancia doveva essere diciamo a favore la piuma doveva essere più pesante dell'anima altrimenti vorreva dire che questa persona aveva peccato ecco quindi il giudizio divino cosa che era completamente stranea per tutta l'epoca classica greca adesso vedo le domande perché oltre a darmi la buonasera e a farmi complimenti vorrei anche qualche curiosità perché è interessante vedere poi questi stimoli diciamo queste nostre conoscenze noi pensiamo che siano sempre state così ma non è sempre stato così per esempio Ovidio nelle sue metamorfosi spiega proprio il concetto della trasmigrazione delle anime questo vuol dire metempsicosi no psiche che passa attraverso vari stadi di conoscenza in realtà moltissime religioni native moltissime religioni dell'origine parlano della metempsicosi ovvero delle rinascite e rinascite della stessa anima che man mano acquista sempre più sapere acquista sempre più conoscenze e si eleva sempre di più fino a smettere a fino a interrompere questa dolorosa dolorosa ruota questo samsara dicevano gli indiani questa obbligo del vivere e rivivere esperienze dolorose fino ad arrivare alla famosa illuminazione no a smettere di rincarnarsi ecco questo è un concetto che appartiene a moltissime credenze umane sia passate che anche moderne ma che per esempio la chiesa il cristianesimo rifiuta assolutamente per il cristianesimo noi abbiamo una sola unica vita e di questa vita e su questa vita saremo questa unica vita saremo giudicati e saremo o dannati eternamente o assolti e messi in paralela credenza ovviamente nessuno è mai andato e tornato indietro come si si sa benissimo cos'altro si può dire del meno orfico intanto che prese molto piede difatti come vi ho detto questi concetti sono stati tramandati ormai ce li troviamo anche noi diciamo nella nostra cultura una cosa importante che mi piace dirvi è cos'era questa memoria e perché era così importante la memoria ora noi dobbiamo pensare che per migliaia e migliaia di anni l'umanità non sapeva scrivere tutto veniva tramandato a memoria i nostri antenati dovevano avere delle memorie prodigiose la scrittura pur avendo tutti i vantaggi che noi sappiamo della scrittura ha comunque questo grandissimo svantaggio che siccome io me lo sono scritto posso dimenticarlo ecco che la memoria si riduce la capacità mnemonica delle persone si è ridotta moltissimo rispetto ai tempi antichi questo lo sappiamo per certo perché esistono nel nostro pianeta alcune società che ancora che ancora pochissime soprattutto in Australia sto parlando degli aborigini australiani che sono gli unici ancora ad aver mantenuto vive le memorie del passato ed esistono nelle tribù ogni tribù ha uno suo storico ha una persona che dedica tutta la sua vita solo a ricordare le antiche narrazioni e incredibilmente non so se lo sapete ma la narrazione cosmonologica del mondo più antica è proprio quella australiana gli australiani riescono cioè con le loro memorie riescono ad avere nozioni ovviamente non abbiamo prove comunque i racconti di avvenimenti accaduti 24.000 anni fa è in assoluto la cosmogonia più antica dell'umanità e pensate un po' è stata tramandata oralmente quando quindi viene inventata la scrittura è vero che è un grande vantaggio ma è anche uno svantaggio questo cambiamento sta avvenendo anche adesso in cui abbiamo ormai questi attrezzi digitali che ci stanno facendo dimenticare in brevissimo tempo la scrittura la calligrafia lo scrivere lo scrivere manualmente molte persone soprattutto i ragazzi giovani fanno fatica scrivono in stampatello ma quando mai la bella calligrafia no c'erano addirittura le scuole di calligrafia e quindi è una un'altra capacità umana che è persa esattamente come la telepatia no quando non c'erano i telefoni la mente umana era capace di molta di forte telepatia le persone riuscivano a sentirsi e a comunicare in un qualche modo in via telepatica ora anche questa capacità umana è stata completamente persa persa perché le tecnologie hanno superito a queste cose quindi non sempre la tecnologia è un vantaggio a volte noi viviamo vite più strette vite più piccole il nostro cervello è come se togliesse delle sue parti e si sviluppasse solo in una direzione che quindi è limitante quindi questo è uno degli aspetti su cui mi piacerebbe che voi rifletteste anche perché la nostra capacità di capire le cose attenzione alle due parole che io sapete che mi piacciono molto fare il giro delle parole tra capire e comprendere sembrano sembrano sinonimi e molti le usano in modo equivalente però il capire appartiene alla mente è la mente che capisce analizza determina struttura scrive mette i numeri fa l'elenco e capisce il comprendere guardate anche proprio faccio il gesto proprio di comprendere il cum prendere cioè il prendere con e il prendere con è dell'anima è l'anima che comprende il cuore che comprende al di là del capire che ciò che comprendiamo sia capito e non è detto che ciò che è capito sia compreso non so se sono stata chiara però è importante non a caso le parole sono diverse perché hanno dei concetti diversi il cum prendere cioè io prendo con con me lo prendo dentro di me lo sento sicuramente eros è comprendere e non capire il poeta comprende e non è detto che l'abbia capito lo scienziato capisce ma non è detto che abbia compreso anzi adesso vediamo soprattutto in questi tempi così difficili vediamo quanto gli scienziati abbiano forse capito ma sicuramente non hanno compreso e la scienza quindi sta rivelando anche un lato scuro molto pericoloso molto difficile cosa simboleggia la danza delle muse con Dioniso la danza allora le muse come vi ho detto sono le figlie di Memnosine cioè sono le figlie della memoria e in realtà sono le arti la musica la danza il coro il teatro eccetera eccetera la danza dionisiaca di cui ho parlato nella scorsa volta la danza dionisiaca è ebbra è una danza diciamo in cui le persone devono arrivare allo sfinimento fisico è inebriante è un'ubriacatura di tutti i sensi fino a avere proprio degli svenimenti veri e propri quindi è una danza estatica si chiamano così questo tipo di danze che diciamo ti distruggono anche ed è esattamente il contrario della danza orfica la danza orfica è quella per esempio dei dervisci la danza del dello sciamano che danza fino a staccare la propria anima dal proprio corpo e fare in modo che quest'anima vada a conoscere il dio il demone il daimon cioè vada nell'altra dimensione a prendere la ragione per esempio della malattia di una persona lo sciamano è un guaritore mentre il dionisiaco no il dionisiaco è posseduto invece lo sciamano è quello che possiede la conoscenza quindi sono in realtà quasi opposti pur essendo sempre trattandosi sempre di danze quando è che la danza viene vietata dal cristianesimo perché ormai non si faceva neanche più distinzione tra le danze sacre e le danze cosiddette delle baccanti no di questi orge che ormai a Roma erano degenerate veramente in un modo spaventoso per cui cosa fa il cristianesimo abolisce tutto abolisce le danze quindi come peccaminose no guai se balli se tocchi il corpo dell'altro subentrano tutti questi divieti tutti questi blocchi a che cosa all'eros e va invece a nutrire il thanatos cioè la morte ecco perché i riti o orfici che parlavano della morte sono estremamente esaltati no conoscere la morte parlare di morte è tipico di tutte le religioni abramitiche le religioni monoteiste altre volte se noi andiamo in una chiesa pensiamo che davvero in quell'edificio ci sia amore quando noi calpestiamo le tombe dei defunti vediamo le cappelle con le le croci delle famiglie dei morti delle grandi famiglie vediamo i crocifissi vediamo i flagellati vediamo i martiri che sono messi sulla griglia che si feriti con con le frecce o bruciati vivi ecco quelle immagini non mi sembrano d'amore ecco infatti l'esaltazione della morte è tipica di tutte le religioni abramitiche compresa la nostra la quale dice che la vera vita non è questa in cui noi siamo vivi ma è quell'altra in cui saremo morti quindi pone la vera la vera vita fuori dalla vita e questa è una cosa molto dolorosa una cosa che impedisce di vivere bene qui di essere felici qui cosa che invece il bambino appena nato vuole tutti noi quando nasciamo vogliamo vivere felice e contente questa è tipica del bambino di essere felice purtroppo a un certo momento della vita come dico sempre arriva qualche adulto qualche genitore qualche maestro che ti dice ma non crederai mica che sia possibile vivere felice guarda che tu devi diventare un bravo metto una brava donnino tu devi obbedire agli ordini tu devi e quindi pian piano le ali vengono tagliate e quella persona non potrà più avere diciamo riuscire a vivere nella propria vita la felicità e l'amore è eros ovviamente infatti l'amore diventa il peccato per tutte queste cose il cristianesimo è la morte di tutti beh sì c'è non solo il cristianesimo tutte le religioni abramitiche l'ebraismo la religione islamica tutte tutte le religioni tolgono eros lo rendono daemon daimon lo rendono demoniaco e esaltano Thanatos esaltano la morte perché perché è un ottimo sistema di controllo se tu hai paura di morire se ogni volta io ti dico guarda che tra poco memento mori guarda che tra poco dovrai morire ecco che tu ti impaurisci e questo poi lo vediamo proprio in questi ultimi mesi in questi ultimo anno quanto questa paura della morte terribile per l'anima sia veramente uno spegnersi dell'anima uno spegnersi di eros come è potente questa narrazione dobbiamo cambiare narrazione dobbiamo aver fiducia che Orfeo riesca a cantare a sufficienza per portarci fuori dagli inferi il canto di Orfeo è uno dei miti più importanti dell'antichità di questo canto e di questo ballo e di questo strumento che era la lira come vi ho detto era considerato magico ora ricordate che tutti gli iniziati tutti gli iscritti a queste scuole diciamo iscritti per dire in un modo moderno ma insomma tutti quelli che partecipavano a questi misteri erano chiamati oi magoi cioè i magi le persone sapienti sapevano fare la magia e quando qualcuno di noi sa davvero muoversi attraverso i mondi crea magia la magia esiste è che noi non sappiamo più accedervi non abbiamo più le capacità come non abbiamo più le capacità di memoria non abbiamo più le capacità di telepatia le macchine hanno come dire bloccato le macchine anche non solo meccaniche anche le macchine elettroniche che abbiamo adesso comunque hanno bloccato delle capacità umane che solo qualche spirito qualche spirito libero o qualche artista riesce ancora a recuperare ed ecco questi sono quelli che hanno accesso hanno i ricordi sanno trasformare un pezzo di marmo nel david di michelangelo ce la fa non è che tutti riescono ecco quindi questa capacità pur essendo umana è andata aperta altre domande altre curiosità ciao michele ciao grazie un abbraccio grazie allora cosa che riguarda dei simboli uno dei simboli orfici è l'uovo l'uovo la forma dell'uovo veniva considerata la forma perfetta perché perché l'uovo è la sede della vita nel tempio di Apollo c'era il famoso Onphalos l'origine della vita che era l'ombelico l'ombelico del mondo incantante poco tempo l'ombelico del mondo l'onphalos si dice in greco era però rappresentato come un uovo un uovo cosmico addirittura pare che sia davvero così che la forma dell'universo sia ovoidale e sicuramente è anche la forma delle orbite degli pianeti è comunque ovoidale quindi diventa simbolo di nascita e di rinascita e diventa sacro per gli orfici e vedremo che queste conoscenze verranno poi tramandate anche nella massoneria vedremo anche Piero della Francesca usare l'uovo come simbolo di perfezione un'altra cosa è la differenza nel cibo tutte le discipline più o meno religiose consigliano alcuni cibi e ne vietano altri sicuramente come sappiamo nelle scuole dionisiache addirittura si mangiavano non solo carne ma carne viva per ricordare lo spargamos del dio dioniso che era stato smembrato e quindi si prendevano questi animaletti questi piccoli animaletti e con le mani nude con le unghie con i denti si strappavano le carni vive e queste menadi in un'orgia selvaggia questi riti ovviamente Orfeo fa esattamente il contrario per l'azione ovvero portare l'uomo verso Dio e non più il Dio verso l'uomo ma l'uomo verso Dio l'uomo deve smettere di uccidere questo è un punto fondamentale dell'orfismo non uccidere mai nulla nessun essere vivente quindi non uccidere gli animali e ovviamente non uccidere gli uomini per esempio nel Tibet è rimasto nelle grandi scuole di elevazione spirituale è sempre così nel buddismo ma anche nel cristianesimo in teoria è uno dei comandamenti dei dieci comandamenti proprio non uccidere e pur tuttavia le guerre sante hanno fatto migliaia e migliaia di morti milioni di morti e così tutte le religioni abramitiche in realtà sono religioni di guerra e questo famoso detto non uccidere viene completamente disatteso ma gli orfici obbedivano a questa cosa infatti mantenevano una dieta totalmente vegetale vegetariana quindi nessun animale nessun sacrificio animale veniva fatto e questo verrà ripreso ripreso anche dai primi cristiani anche da tante discipline spirituali l'astenersi l'astenersi dalle carni dall'uccisione dalla violenza che ovviamente quest'atto implica porta l'anima a potersi elevare a potersi liberare più in alto no a essere monda come si dice pulita da queste orribili l'insegnamento di Cristo e l'amore alla chiesa cattolica che ha ridotto tutto a un potere temporale sicuro certo è così sono gli uomini della chiesa che hanno fatto le cose della chiesa la teoria è meravigliosa i Vangeli sono meravigliosi se fossero applicati il punto è che non lo sono e non lo sono stati per secoli anzi arrivando a delle derive spaventose gli orrori ma non solo della chiesa cattolica di tutte le chiese di tutti gli ordinamenti di tutte le religioni sono stati terribili per cui se volete sapere il mio parere sono convinta che sia ogni anima singola senza religione ma semplicemente ponendosi nella contemplazione del divino e dell'amore possa raggiungere la felicità la gioia di essere di capire che siamo tutti divini ecco questo è un concetto che fa fatica ancora a passare proprio perché c'è questa dicotomia questo è il Dio è sopra di me fuori da me la chiesa è un luogo fuori da casa e invece no è tutto dentro e quando capiamo che è tutto dentro che allora davvero diventiamo potenti diventiamo capaci di poter cambiare le cose diventiamo magoi diventiamo i magi diventiamo prendendo in mano tutte le nostre capacità non le deleghiamo più ai santi agli angeli agli arcangeli ai papi o a qualunque altra ai preti a qualunque altra persona no non deleghiamo più ma ci riprendiamo le nostre capacità divine e come esseri divini possiamo operare le magie ovvero i miracoli perché poi la parola cambia ma in realtà quelle che la chiesa definisce miracoli non sono viste da un altro punto di vista o da un altro tipo di cultura si parla sempre delle stesse cose vediamo un po' altre domande siete tutti basiti senza domande vi ho lasciato completamente senza domande allora io continuo ancora un po' se avete delle cose da chiedermi ovviamente lo potete fare un'altra cosa importante che forse ricorderete dei riti eleusini quando io ve ne ho parlato era il fatto che i misti ovvero questi ragazzi che frequentavano gli iniziandi cioè quelli che frequentavano queste scuole queste conoscenze eccetera dovevano bagnarsi o nell'acqua del fiume o nell'acqua o nell'acqua del mare no dipendeva da dove si svolgevano sicuramente ad eleusi era l'acqua del mare perché praticamente Atene è sul mare l'acqua è un altro degli elementi fondamentali diciamo dei concetti orfici infatti non solo i misti diciamo dovevano bere alle due fonti che vi ho detto il lete e quindi sarebbero ritornati nel ciclo delle incarnazioni oppure alla fonte di Memosine e si sarebbero avviati verso diciamo i campi elisi verso l'isola dei beati e non avrebbero più dovuto sottostare al dolore dell'incarnazione l'acqua era considerata sacra perché perché con memoria pensate che cosa strana pensavano allora che poi solo molto 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 recentemente in questi ultimi decenni è stato di nuovo ipotizzato che l'acqua portasse memoria chi ha seguito gli studi di Masaru Emoto quel scienziato che è molto criticato da alcuni quello scienziato giapponese che ha dimostrato che subisce dei cambiamenti semplicemente attraverso le parole se qualcuno di voi non sa di questo o comunque di questo studioso vi invito a andare su google e a vedere i suoi esperimenti sono davvero molto interessanti questo stesso concetto che è stato ripreso attualmente da questo scienziato giapponese ripeto Masaru Emoto si chiama era anche presente in questi antichi rituali l'acqua veniva considerata sacra e che potesse davvero pulire le memorie ecco perché c'erano molte abluzioni per esempio anche la islamica obbliga le persone prima di lavarsi le mani fare le abluzioni era uno dei metodi che si usavano per purificare il corpo e poter avere migliore accesso alle conoscenze divine alle conoscenze del sacro noi abbiamo perso il concetto del sacro noi abbiamo la religione i concetti religiosi non i concetti sacri sacro è l'amore sacro è l'altra persona sono tutte tutti gli esseri viventi in realtà sono sacri come diceva Einstein per alcuni non esistono e per altri esistono solo miracoli sicuramente la mente poetica la mente poetica la mente creativa degli antichi era sicuramente quella che vedeva miracoli ovvero quello che vedeva le magie che vedeva come questi flussi energetici potessero cambiare le cose e come noi dovessimo semplicemente coadiuvare le nostre azioni devono essere nel flusso della divinità e non ostacolare il flusso cosa che invece poi la mente razionale la mente poi che mente la mente newtoniana no la mente vedrà invece tutto il mondo come un orologio come una specie di meccanismo perfetto in cui tutto è collegato e tutto è scandito da una matematica ferrea cosa che però due secoli dopo Einstein ha completamente rovesciato creando appunto la fisica quantistica che ovviamente ritorna all'antico modo di vedere il mondo quell'antico modo che vedevano appunto gli iniziati le persone che avevano accesso a queste conoscenze quindi insomma sono i corsi ricosti storici come diceva Vico vediamo se altre domande siete particolarmente zitti stasera comunque io non so ora è abbastanza adatta a un saluto oppure se vogliamo ancora rimanere un po' insieme parlare anche di altre cose perché Orfeo è un personaggio che fu anche per questo è più o meno una specie di visione cristica scusa faccio una domanda banale ma perché facciamo ancora fatica a ricordare i sogni e nei sogni non si muore mai bellissima questa domanda Marisa allora l'attività onirica era considerata un'attività sciamanica un'attività che ci metteva in contatto con il divino in tutti i popoli nativi della terra andare a sognare e quindi andare ad avere le visioni era un dato fondamentale per prendere le decisioni vi faccio questo esempio tutti voi probabilmente conoscete la storia di Cavallo Pazzo siamo nell'ottocento in America Cavallo Pazzo è uno degli ultimi Cheyenne uno degli ultimi pelle rossa che ancora resiste all'avanzata dei bianchi e Cavallo Pazzo decide di fare tre giorni di digiuno attenzione anche sempre il cibo per avere contatto con il divino non bisogna mai appesantire lo stomaco bisogna essere sempre leggeri o addirittura a digiuno ci sono i digiuni sacri quindi questi nativi questo Cavallo Pazzo andò sulle montagne da solo e digiunò tre giorni e tre notti per riuscire ad avere la visione ovvero il sogno a sapere cosa volevano gli dèi e lì capisce che la sua lotta è vana che i bianchi vinceranno e infatti poi si arrende sarà preso Cavallo Pazzo però diciamo questa capacità del sogno anche gli aborigeni è la via dei sogni quella che loro fanno la via dei canti il sogno è e poi una piccola morte no? il sonno il sonno è come se ogni notte noi ci addormentiamo e sembriamo un po' morti poi torniamo in vita fino all'ultimo sonno che è quello definitivo di Thanatos cioè quello del sogno il sogno è effettivamente il momento in cui la nostra mente è libera o si spera sia libera da tutti i blocchi che la razionalità mette durante il giorno ed ecco che può creare i suoi mondi fantastici e di solito se siamo in grado di ricordare i sogni spesso ci danno delle indicazioni preziosissime per risolvere i cosiddetti problemi quotidiani se abbiamo anche delle gravi scelte da fare o dei gravi intoppi nella nostra vita a volte attraverso i sogni ci arrivano le soluzioni io sono una gran sognatrice e a volte davvero ho avuto delle rivelazioni proprio durante questi sogni che poi io non chiamo più sogni perché i sogni normali diciamo al primo battito di ciglia che aprite gli occhi scompaiono ma esistono degli sogni cosiddetti che sono in realtà delle visioni che non scompaiono anzi come dire c'è un imprinting si imprimono nella mente in modo indelebile e sono indimenticabili non possiamo più dimenticarli io ho fatto una volta incredibile mi capita nel sogno che mi collego con pensieri ad altre persone ho sognato un portafiore un amico poi qualche ora è arrivato questo rosa ma pensa che meraviglia evidentemente con questo tuo amico hai una grossa affinità psichica amorosa forse perché è l'amore è la come dire il sentirsi nell'anima che crea queste risonanze no siamo collegati in realtà noi siamo tutti collegati hanno un bel dire a noi di separarci di non toccarci noi siamo collegati la nostra parte creativa la nostra parte poetica non può fare altro che creare attaccamenti che creare connessioni con le persone non solo con i mezzi elettronici noi siamo davvero collegati siamo nell'universo che è verso uno cioè tutti noi la parola universo significa verso uno cioè tutti cerchiamo l'unione tutto si unisce oggi è molto potente la telepatia no purtroppo no raramente adesso abbiamo il telefono adesso abbiamo il cellulare una volta era molto potente una volta davvero le persone si sentivano anche a distanza però questa telepatia tra virgolette è stata dimostrata adesso dalla scienza ufficiale no il famoso concetto dell'entanglement non è altro che una telepatia tra le cose è stato dimostrato che se due particelle vanno in contatto questo lo so perché mio fratello è professore di fisica quindi me l'ha spiegato perché se no io non sarei in grado mi ha spiegato questo che due particelle se vengono a contatto tra loro anche una sola volta e poi una di queste particelle la mandiamo a New York la particella è rimasta in Italia se si muove si muoverà anche quella di New York cioè l'entanglement significa che tutto nell'universo è collegato che non esiste separazione e per quanto il potere i forti abbiano sempre cercato di separare di dividere divite timpera quindi di dominare tramite separazione non possono farlo perché la natura stessa è unione tutto è connesso non esiste una foglia su un albero che possa sbocciare se non c'è il vento se non c'è l'aria se non c'è il sole che la scalda è impossibile tutto è armonico ecco perché la musica la musica divina di Orfeo era così importante perché tutto è armonico tutto è musica la musica diciamo delle alte sfere no? si alcuni studiosi hanno studiato proprio questo tipo di musica così elevato che porta l'anima a connettersi con l'universo anche il famoso om è un suono no? ci si mette in cerchio tutti insieme con le mani così a fior di lotto e si fa l'om l'om è poi stato dimostrato che il rumore di fondo dell'universo questa scienza è stato dimostrato che proprio om o l'universo ha un suono ed è quello pensate un po' gli antichi hindù come erano tutti e quanto sapevano e quant'erano in connessione con la verità noi siamo in connessione con tutto con tutti i web del mondo con tutte le varie internet del mondo ma con la verità non siamo più in connessione ecco grave grave crisi è perché non siamo più connessi neanche più la capiamo neanche più tendiamo alla verità solo le grandi anime tendono alla verità che poi è l'amore e la verità e l'amore sono le stesse cose quindi la verità è amore e l'amore è verità come la verità è bellezza è la bellezza è verità perché abbiamo perso queste doti perché abbiamo fatto abbiamo venduto queste doti a fronte dell'acquisizione di macchinari abbiamo pensato che le macchine potessero sopperire meglio delle nostre capacità alla nostra vita materiale e in qualche modo è anche vero sicuramente la fatica fisica grazie a Dio che ci sono le macchine altrimenti noi non potremmo le macchine ci fanno volare le macchine ci permettono di sollevare dei pesi enormi quindi non è vero che le macchine sono tutte negative e che bisognerebbe tornare ai tempi primitivi bisognerebbe avere entrambi cioè non bisogna pensare sempre in una forma duale o questo o quello no io voglio e questo e quello ecco che allora l'uomo è completo niente di male nella mente analitica nella mente che sa creare che ne so io un edificio sa mettere il cemento armato sa creare che ne so io un palazzo meraviglioso benissimo brava brava mente brava che sei riuscita a fare una cosa così bella ma questa però non deve essere l'unica capacità noi abbiamo molte altre capacità che invece abbiamo dimenticato di avere queste vanno riscoperte vanno riusate e questa è la ricchezza reale non sono i soldi i soldi sono un mezzo il fine è la felicità il fine è l'amore senza quella forza lì noi possiamo andare a tutte le parti avere i più grandi yacht del mondo costruire i più grandi per cui è chiaro che è così cosa rappresenta il divieto di offero di girarsi indietro verso la natura del tempo eh su questo punto brava Marisa su indagati molti molti studiosi c'è chi dice che Orfeo era in grado di farlo perché era mortale e non era un dio e quindi non avrebbe mai potuto vincere nonostante che diciamo il suo canto fosse quasi divino comunque non era in grado di farlo altri dicono che disobbedì la famosa disobbedienza disobbedienza al divino si girò prima di quello che era consentito cioè fece la grande disobbedienza e fu punito per questo andare contro il divino è un bel punto di riflessione perché questo implica sapere che cos'è il divino ovvero che cosa vuole il divino cosa vuole da noi il divino lo sappiamo no sappiamo quello che ci dicono i preti che è divino ma non è detto che quello che dicono i preti sia il vero divino cosa vuole da noi il vero divino siamo incanalati sufficientemente aperti a questa esperienza del divino e del sacro no non lo siamo più non siamo più capaci infatti tutti siamo tutti arrabbiati siamo tutti incazzati siamo tutti non sappiamo più qual è il divino ecco che solo alcune anime che si mettono davvero nella ricerca profonda della propria verità del proprio divino del proprio sacro allora forse forse qualcuno saprà che cos'è e Orfeo sicuramente non era in grado di perde perde la partita non ce la fa e quindi noi come Orfeo dobbiamo stare molto attenti a ciò che il divino ci sta dicendo cosa abbiamo per poter accedere solo il nostro cuore il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce il cuore sa la ragione capisce la ragione può capire la matematica può aiutarci a fare un calcolo può aiutarci a che nessuno io a fare la spesa ma è il cuore che sa la strada è che noi abbiamo perso la connessione col nostro cuore il famoso cuore di Dioniso vi ricordate che vi ho spiegato i dionisiaci l'anima dell'uomo era divina solo perché era un pezzetto di Dioniso è l'anima che conosce pochissime persone si pongono neanche l'idea di avere accesso alla propria anima seguire quell'anima nonostante tutto tutti ti sono contro certo perché la matrix la società è contro l'anima è contro l'eros è contro la felicità vi vuole schiavi ci vuole tutti come dire bloccati tutti messi in una specie di di schiavitù ci vuole mettere in catene intrappolati non a caso io ho scritto la trappola invisibile che spero qualcuno di voi abbia letto perché come dico sempre io quel libro lì è uno spartiacque c'è una vita prima di aver letto la trappola la trappola invisibile poi una vita dopo aver letto la trappola invisibile perché dopo vi accorgete di che cosa davvero quale siano gli imbrogli pazzeschi in cui siamo immersi però diciamo che la connessione con la propria anima sia solo tramite amore è il cuore che sa dove andare dove è bene andare conosce il bene e il male è solo il cuore ci sono momenti in cui accade momenti di telepatia l'azione ci connette ci fa vedere la scienza dello spirito purtroppo il sistema è contro la felicità il sistema è contro l'eros tutto puoi fare tranne chiamare puoi vestirti bene puoi guadagnare dei soldi puoi diventare potente puoi avere tutti sotto di te e comandare a bacchetta persone ma guai se ami guai se scegli l'amore perché se scegli l'amore tu diventi potente non sei più di potere io sto sempre molto attenta alle parole come sapete e anche queste due parole sono molto simili potere è una cosa è la potenza il potere si esercita su qualcosa io ho potere su i miei operai io sono il dirigente e io quindi decido cosa devono fare i miei operai quello è un potere il potere politico è un potere il potere ecclesiastico è un potere la potenza non è su nessuno la potenza è mia io posso essere potente e io quindi agisco nella mia potenza infatti quando diciamo l'area sessuale si chiama di potenza sessuale non potere è una potenza cioè io sono capace sessualmente eroticamente di amare quella è una potenza perché appartiene a me non viene esercitata sugli altri non so se sono stata chiara è importantissimo quando si scoprono gli imbrogli ci si libera bravo quando si esce dalle trappole ci si libera ma prima le devi capire non puoi uscire se non le hai capite tu devi capire le norme l'enorme meccanismo che ti intrappola è enorme ed è millenario però qualcuno ci riesce sempre ci sono vari mezzi non è che ce n'è uno solo ognuno deve trovare il proprio e avere il coraggio la parola coraggio l'ho già detta anche qualche altra volta deriva d'accordo agire col cuore solo chi ha coraggio potrà rompere la trappola solo chi ha coraggio potrà uscire dalla gabbia la devi conoscere la gabbia devi sapere bene come funziona e quindi anche ci vuole la mente intelligente per capire come funziona ma poi sappi che sei tu che ti sei intrappolato e tu quindi l'unico che può uscirne quando capiamo dopo dobbiamo agire con coraggio ecco perché l'amore implica del coraggio perché deve agire col cuore e il cuore è quello che sa come abbiamo detto prima non la mente la mente può fare i calcoli della spesa può mettersi a fare i conti della serva bene allora torniamo un attimo al nostro Orfeo che ci ha accompagnato con la sua lira in questo viaggio e ci accompagna ancora perché come ho detto prima molti dettani Orfici ancora ci appartengono anche per esempio il non mangiare carne anche i pitagorici sapete che gli antichi facevano i sacrifici no? il bù sacrificavano soprattutto gli animali buoi pecore capre venivano uccisi sull'altare no? e poi il sangue veniva raccolto si mangiavano le vizie un sacco di rituali i pitagorici e anche gli Orfici crearono un'alternativa a questi sacrifici non è che non facessero sacrifici agli dèi il sacrum facere no? il fare il sacro ma li facevano facevano delle forme di pane delle forme di pane a forma di bue a forma di pecora a forma di capra e poi bruciavano e mangiavano questo pane la famosa ostia che anche noi usiamo non è altro che quel pane di Orfeo che veniva distribuito come sacrificio quindi come vedete tutte le cose sono connesse anche nel tempo attraverso lo spazio ciò che fa Cavallo Pazzo cosa ha fatto Cavallo Pazzo nell'ottocento nelle pianure americane ha a che vedere con quello che stiamo facendo noi oggi quello che facevano gli iniziati nelle scuole iniziatiche greche siamo un secolo avanti Cristo ah in realtà a che vedere con oggi con quello che facciamo oggi come vedete le nostre radici sono lunghissime sono potentissime quindi conoscele è semplicemente una forza in più è qualcosa che nessuno ci può togliere mia nonna diceva ci possono togliere tutto tranne ciò che sappiamo ci possono togliere anche i vestiti ma non ciò che sappiamo quindi io adesso direi che l'ora sia abbastanza situata io vi saluto tutti grazie per essere così numerosi veramente questa volta è andata bene dal punto di vista tecnico perché qualche volta ci sono state delle interruzioni stavolta no quindi siamo stati fortunati e allora vi do la buonanotte vi saluto e ci sentiamo il mese prossimo con la nuova diretta che ovviamente sarà una sorpresa quella che comunque sapere a tutti voi che cosa di che cosa parleremo con queste nuove tecnologie potrebbero toglierci ciò anche che sappiamo no no se lo sappiamo davvero se invece abbiamo bisogno di google certo che ce lo tolgano un'ultima cosa perché questa riflessione è molto importante vi tengo ancora cinque minuti perché è troppo importante attenzione a questi mezzi così avanzati tecnologici che ci portano apparentemente delle conoscenze ma che sono scritte sul nulla sono scritte su un tablet possono cambiarle basta che venga cambiato il programma e allora sapremo che che ne so io Giove non è più né non so non era più il dio Giove non era più Dio dei romani ma si chiamava in un altro modo se lo scrivi su google la gente ignorante vede che si chiamava in un altro modo e pensa che sia vero quindi attenzione alle fonti della conoscenza tenete da conto i libri tenete da conto le idee tenete da conto ciò che era stato scritto prima dell'avvento delle tecnologie informatiche perché è vero che sono informatiche ma come vi informano che cosa davvero vi dicono siete sicuri che quelle cose siano proprio quelle giuste possono manipolarle e siccome la matrix e non dico altro e chi ha orecchie per intendere intende la matrix è diabolica potrebbe cambiare nel giro di un attimo tutte le conoscenze voi le trovate su google e credete che sia vero o su wikipedia o su altre fonti andate alle fonti di carta andate alle fonti dei nostri vecchi libri le biblioteche sono luoghi sacri perché ogni potere ogni potere didattoriale ha bruciato i libri perché Hitler nel 36 brucia i libri perché Giulio Cesare va a bruciare la biblioteca di Alessandria e poi dopo di lui Teodosio e dopo di lui il vescovo Camillo e poi tutti cercano ogni volta che vogliono instaurare una dominazione bruciano i libri adesso basta un pulsantino date cancella clic attenzione ragazzi siamo da questo punto di vista le tecnologie possono salvarci e lo hanno le tecnologie pensate non so ai mezzi diagnostici ai vistori elettronici anche ai viaggi nel cosmo della NASA eccetera cose meravigliose però attenzione come sono positive così possono essere negative quindi sono molto potenti cerchiamo di stare molto attenti libri e quadri è certo i quadri sono la bellezza del mondo no i quadri la natura è di bellezza come diceva John Keats beauty is truth and truth beauty it's all we know and all we need to know cioè la verità è bellezza e la bellezza è verità è tutto ciò che sappiamo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno di sapere noi abbiamo bisogno solo di sapere che la verità è bellezza è la bellezza è verità perché un prato è sempre bello perché la natura qualunque sia la sua forma è bella perché è vera quindi le persone vere sono sempre belle se uno vuole chi ha orecchie per intendere intendo allora vediamo un po' cos'altro è rimasto niente siete tutti a posto allora io vi ringrazio tantissimo dell'attenzione vi do appuntamento al mese prossimo ad aprile con un'altra diretta e vedremo l'argomento ok allora vi auguro buonanotte grazie di essere stati con me arrivederci grazie grazie a tutti